Purtroppo è così, ogni volta, ogni anno succedono queste mareggiate, ogni anno succedono sempre più spesso. Ecco, io come orafo nel mio assortimento di pinze, di aghi, di cannelli per fare, diciamo, le collane, per riparare gli orologi, per fare... Ho anche questo nel mio assortimento, perché noi siamo penalizzati a Ischia Ponte delle acque, delle alghe, dell'acqua alta e della sporcizia perché non vengono a pulire frequentemente. Cioè qui, ogni volta che puliscono il giorno dopo viene una mareggiate e stiamo punti da capo. In un anno, due mesi, siamo chiusi non per nostra volontà, ma per volontà del cattivo tempo e delle mareggiate e questo è Ischia Ponte. Questo problema si potrebbe risolvere o è un problema con il quale dovete essere rassegnati a convivere? Tutte le alche, tutta la sabbia arriva solamente non dal mare, dal pontile, dalla voce, ma dal canalone. Perché dal canalone è un'entrata, il mare dello scirocche che spinge a pressione porta dentro tutta alga che arriva fino alla chiesa. Si può risolvere facendo una saracinesca basculante, così il mare quando spinge la saracinesca si chiude, l'acqua non entra, non entreranno neanche le alghe né la sabbia e ci sarebbe un lavoro in meno per tutti gli operai e noi avremmo meno disagi di Ischia Ponte ad avere sempre questa situazione. Poi, quando c'è ancora da fare un piccolo, se uno vuole fare una cosa un po' di più, a metà canalone, fare un tubo da 200 come bypass che va verso la scarpetta perché così quando il mare viene davanti e l'acqua piovane viene dentro, chiaramente le due forze singole della saracinesca non si apre e non si chiude. Così c'è questo bypass che l'acqua riesce ad uscire. Oppure quando il mare riesce ad entrare, solo il mare non le alghe la cosa, per bypass ritorna indietro e non avremmo più questa sporchizia, questo pantano perché io devo chiedere al comune di farmi portare due paparelle perché così abbelliamo un po' la piazza con il laghetto che abbiamo costantemente. Come vede io ho voluto farmi una pedana per cercare di far entrare la gente perché se no non sarebbero più due mesi ma sarebbero quattro o cinque mesi che dovrei stare.